Entrando, troviamo il disimpegno che al giornalismo è ormai difficile da trovare, comodo per cappotti, scarpe o comunque prodotti per le pulizie. La cucina è abitabile e al suo balcone che dà sul giardino condominio. Bagno di servizio comunque finestrato, si può dividere tranquillamente la lavanderia con la doccia. La zona giorno è molto ampia, ci sono le zanzariere sulle finestre. Abbiamo un terrazzino, molto comodo volendo anche per mangiare in compagnia. La zona è molto tranquilla quindi non ci passano tante macchine. Zona notte invece abbiamo un matrimoniale, che è molto grande perché ci sono un armadio a quattro stagioni, un altro armadio e scendimento sui tarazzini. Questa parte è una cassettiera, quindi la vetratura non manca. E poi abbiamo il bagno padronale con la vasca. cameretta. Completano nell'offerta la cantina e il box.